Domenica si torna al Palamaggetti, le Panthers Roseto impegnate nella sfida salvezza contro Cagliari, si giocherà in un solito orario, quello delle ore 15, con il direttore sportivo Laura Orto per fare un po' il punto della situazione dopo la sconfitta di Firenze e soprattutto anche alla vigilia di una settimana che porterà questa sfida importante. Sì, domenica abbiamo una gara di quelle fondamentali, iniziano delle settimane importanti per noi perché ci porteranno, ci devono assolutamente portare alla salvezza, anzi in merito a questo faccio un appello a tutti i rosetani e speriamo di vederli domenica numerosi in tribuna perché abbiamo bisogno del sesto uomo e credo che sia fondamentale questa cosa. Il coach Romano nell'ultimo turno ha voluto mettere a riposo la Mikovic che dovrebbe rientrare domenica, questo ovviamente per impegni molto più importanti da Cagliari in poi. Sì, noi abbiamo deciso di salvaguardare Mikovic perché per noi è una giocatrice fondamentale e visto quello che ci aspetta abbiamo deciso di lasciarla a riposo per poterla avere al 100% domenica in campo. Ovviamente diciamo anche degli impegni dopo Cagliari sanno anche impegni importanti sempre al Palamaggetti. Sì, poi avremmo Savona, avremmo Stella Azzurra, sono tutti scontri salvezza per noi che non possiamo assolutamente sbagliare e che dobbiamo giocare e affrontare forse come i primi due quarti fatti a Firenze domenica dove si è vista una squadra decisa a portare a casa il risultato. Però poi abbiamo avuto un blackout importante, probabilmente ha pesato anche l'assenza di una giocatrice come Mikovic appunto che nei momenti in cui conta la sua esperienza viene fuori e si tira dietro una squadra intera. Ma noi siamo certi che dobbiamo partire dai due quarti fatti in maniera positiva a Firenze e siamo convintissimi che giocando così riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo.